Cerca un barco, non lo trova. Asamoah, prova lui la botta, palo pieno! Un siluro di Asamoah sul palo pieno! Lo scalica ancora per Higuain, attenzione, vuole andare in zona tiro, Higuain prova! Non era facile. Era difficile. Manolas, Fazio, De Rossi, parte il cross verso De Rossi, attenzione! Si accentra improvvisamente, guarda verso Higuain, lo va a cercare, gran palla per lui, l'appoggio, rete! L'appoggio per Lemina che ha seguito l'azione, Juventus in vantaggio, grande ormita qua della difesa giallorossa! Movimento silenzioso quello di Higuain, alle spalle dei due centrali difensivi, Fazio soprattutto, Fazio è qui sconsolato, Spalletti guarda i propri giocatori, grandissimo movimento! Rudiger primo palo, parte il cross, colpo di testa centrale, attenzione, due volte De Rossi, rete! Rete, posizione regolare, De Rossi, la Roma pareggia! Juventus che spesso a inito campionato aveva subito gol su calcio d'angolo, su calcio piazzato, qui ritorna all'antico, una marcatura non perfetta, vediamo come Manolas... Manolas poi ha ripreso l'opposizione e elimina... Sturaro, c'è Higuain, tocco per lui, controllo e tiro, Shesny! Eccezionale, Pichita, svetta, quadrato! Piani c'è un nuovo cross, basso, filtra il pallone! Quasi un tiro involontario quello di Sturaro! Attenzione a Nainggolan, cerca un'idea, prova per Salah, si gira! Colpo di testa debolissimo però, lo accompagna Nainggolan! El Sharawi si accentra, prova il tiro, El Sharawi! Rete! Rete credibile! Trova l'angolo, sorprende Buffon, Roma in vantaggio! Una rasoiata non potentissima ma molto precisa quella di El Sharawi! L'Istagne non ha coperto bene la palla ma probabilmente ha coperto... Non riesce a girarsi, Salah a limite, attenzione, si infila Nainggolan, tocco per lui, destra secco! Rete! Rete! Nainggolan non sbaglia! Grande scambio, 3-1, esplode l'Olimpico! Molto statica la retroguardia bianconera, il pallone a Salah, è arrivato con ritardo la chiusura, mi sembra di Benatia, che è rimasto abbastanza basso, ci ha inserito molto bene... Mangiukic a cercare Pipita, colpo di testa, dalle retrovie, è arrivato Di Bala-Rimorchio, bella l'idea ma non ha tenuto basso il pallone. Esatto, ha anticipato Paris. Non riesce a pensare al tiro, Mangiukic, ecco il cross, attenzione verso Boluccio, arriva lui! Rimorchio ma non trova la porta. Poggiato, la mano sulla spalla, Asamoah... Errore di Dani Alves, Emerson! Si è ripreso la grande, Emerson, questa galoppata... Attenzione, il banti, Lemina, verticalizza, Pipita si gira, sceso! Applausi anche per lui!